Dottor Stornelli ha curato il corso di formazione ECM dedicato alla responsabilità degli infermieri nella somministrazione dei farmaci. Ecco, può spiegarci quali sono gli errori più comuni che possono essere commessi appunto da parte degli infermieri nella somministrazione dei farmaci? Io la chiamerei la filiera del farmaco, intesa come un processo lungo all'interno del quale esistono delle subfasi in ognuno delle quali può materializzarsi l'errore o semplicemente può nascere il quale poi si concretizza nel momento in cui effettivamente il farmaco viene somministrato al paziente. Alcuni casi possono essere rappresentati da farmaci presenti in contesti o in armadini quali in realtà non dovevano essere presenti o a volte semplicemente da farmaci che graficamente hanno lo stesso aspetto. Quali sono quindi i consigli che possiamo dare per limitare il rischio di commettere questi errori? A mio modesto avviso il consiglio fondamentale è quello di segnalare ogni errore, ogni evento. Solo grazie a delle segnalazioni, agendo quindi in una modalità reattiva, si può arrivare un domani ad avere una modalità proattiva ambendo addirittura una riduzione totale degli errori. Cosa prevedono in questo campo le raccomandazioni del Ministero della Salute? Beh, già le ultime tre raccomandazioni del Ministero della Salute in modo specifico pongono attenzione alla somministrazione dei farmaci in generale. In particolare ricordiamo ad esempio la somministrazione dei farmaci cosiddetti LASA, ovvero quei farmaci che appunto come detto prima graficamente ma anche nel testo stesso del farmaco possono presentare delle similitudini con altri farmaci. Per cui semplicemente il consiglio è quello di attenersi, quindi di implementare davvero nella pratica le raccomandazioni ministeriali. In caso di errore però che cosa accade all'infermiere? Allora è chiaro che nel momento in cui dovesse essere individuato un responsabile, anche se in questo caso la parola responsabile non deve essere semplicemente colui che ha commesso l'errore, possono essere individuati vari profili di responsabilità. Di certo è opportuno che all'interno della struttura vengano applicate delle indagini, vengano eseguite delle indagini attraverso la cosiddetta root case analysis, ovvero quegli strumenti reattivi con i quali davvero si evidenzia chi eventualmente ha commesso l'errore. È chiaro che da un punto di vista penale, civile, ma anche da un punto di vista della responsabilità disciplinare i rischi possono essere quelli di avere delle sanzioni penali, civili o anche addirittura in alcuni casi essere licenziati.